Madonna, è un po' tanto tempo che non mi trovo davanti alla camera a registrare Non so neanche se sono più capace di farlo e di farlo fatto bene Vabbè Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale di Matti Vape Io sono Matti Vape e le cose negli ultimi mesi sono un pochino cambiate Abbiamo fatto una pausa, chiamiamola così, una pausa d'arresto Ci siamo presi un pochettino di tempo per raccogliere le idee E ci sono stati dei piccoli cambiamenti all'interno del mio canale e all'interno di quello che succederà nei prossimi mesi Cioè la collaborazione con Puffstore Pergine, persone straordinarie, è conclusa Ed è nata una nuova possibilità di cui con calma poi ve ne parlerò, ve ne citerò, avremo modo Ma questo non cambia lo spirito di questo canale Cioè parleremo sempre di vaping Parleremo di vlog Cioè faremo dei vlog dove parleremo in generale con quello che sto facendo in questo momento Come si vede è cambiato un pochettino il tutto qua intorno a me Ho questo bellissimo sfondo Per il momento resterà così Poi decideremo se inserire di nuovo il green screen o meno E niente, fatemi svappare che adesso ho troppo buono qua E che c'è da dire ragazzi? C'è ben poco da dire Noi ci siamo presi un po' di pausa per le ferie e quant'altro Ma siamo tornati Questo è un piccolo vlog che durerà veramente pochissimo Dove do il rientro a questo canale Nei giorni successivi usciranno dei nuovi video E vi anticipo già che ci sarà il video dello Scanda di Negus e Son Insomma, Negus Mode Eh, che devo dire? Non so quanto si vedrà ma c'è lo Scanda 001 Faremo il video anche dell'Atom Perché mi hanno mandato anche questo Atom qua Che è veramente molto interessante Parleremo di liquidi In questo momento vado a drippare delle Monti di Dreamots E vado a ricaricarmi un pochettino le coil Che sto utilizzando di Isaac Che sono incorrelato con lo Scanda A meno a me sono state date Ma suppongo che vengano date a tutti quanti E che dire ragazzi? Sono tornato Ne vedrete delle belle Avremo dei liquidi assurdi da recensire C'ho un sacco di recensioni in sospeso Ma con calma facciamo tutto Bisogna solo avere un po' di Matti Vey Un po' di tempo Le più le meno Sì I'm back bitch Ci siamo ancora Detto ciò Ho detto tutto Non vi dimenticate di iscrivervi al canale Mettere mi piace al video Iscrivervi a tutti i miei social Facebook, Instagram E chi più ne ha Più ne metta Come diceva Cicciolina Gattetto Svapare E basta Ciao Ciao Grazie a tutti